A yellow portal here A red one in the wall Do it when Stan says Sometime you need a ball Ciao a tutti da Svideogen74 Sono in compagnia con il Fedele Stan Fedele Stan sembra però un cane, detto così Perché sei fermo? Per un attimo Sì, sì Allora C'è quel gancio che scende giù dall'alto Guardo, vai lì, salta dentro Salta lì dentro Dove? Salta lì dentro Nell'acqua no, nell'acqua no No, lì Guarda, guardami Lì Lì Ok Ah sì, era quello dove si bollava Adesso, rimane lì a saltare Sì Non sei rimasto lì a saltare Ti potete saltare all'infinito Vai, salta Vedi ti sei fermato Sì, ti sei fermato Dove ti chiedere a scendere, non devi fermarti Vieni, ti stai fermando, cazzo Ecco, ecco, ecco Adesso, adesso, adesso Dai, fermo Eh, ma devi posizionarti bene No, hai sbagliato Ok Devi stare fermo con la tastiera, ok? Devi stare fermo con la tastiera ma non la troppa cosa salta dentro o devo fare gesto aereo sono morto ho capito fa fare a me metto un portale lì o uno lì? uno lì? dentro o là in alto ora adesso vai lì devi fare un portale giallo cioè fare un portale giallo qui certo dopo dopo appena comincio a saltare dopo dopo lo devo fare allora dunque lo rimetto qua quando ti vedo saltare eh scusa sono caduto in acqua l'amor del cristo santo eh vedo vedo che sei molto religioso dai allora ti dico di fare il portale fai il portale? si ok vai lì sei pronto? si ti guardo anche te dimmi fai il portale? fatto ok siamo ok allora salta salto io? si aspetta che succede? no hai sbagliato ah ok risalta è difficile questo po' non lo farò la rompa vai lì salta no mi consiglio alla saltata no no succede sei morto sei ucciso per aglio ok ora ho veramente compreso questo puzzle sei arrivato all'illuminazione dai salta no come fai? salta ah scusa prometto che c'è di non ucciderti ora magari si salti bene ecco 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 va benissimo va benissimo così va benissimo così no ok giusto perfetto si ce l'hai fatta ce l'ho fatta dai per il pulsante veglia che si accade per il pulsante proprio per il pulsante prendiamo il pulsante subito ecco premuto ok ora devi fare la stessa cosa che ho fatto io fai un portale quindi qui un portale qui di arno? ma un attimo tu sei lontano lì da qua riesco a farlo si che riesce a farlo c'è nel pieno visuale dai portale qui grazie qua ok un altro portale quello rosso qua fane uno sopra rosso sopra aspetta beh è giarlo così e quello rosso qua no quello rosso qui ah eh si ora appena comincia a saltare fane un altro rosso qui si 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 ho capito no però prima premi il pulsante cioè premi il pulsante quando l'hai fatto fai uno rosso qui comprende? no dopo quando comincia a saltare ah scusa ok quindi adesso cosa che faccio? prende uno rosso lì premio l'interruttore no rosso qui beh è possibile che non riesci a eseguire ok uno rosso qui no fa meglio mi piace ora ora quando ti dico via fai il pulsante e ne fai uno lì ok comprendi? si 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 ho capito tutto ok quando ti dico via si via fatto bravissimo ma che salto che hai fatto andiamo ok sta parlando di te uno batte le 5 spreggevole in dema ma cosa dici sta qua? direi che tu sei inferiore tu sei il Robin di Batman e Robin no no sei tu Robin tu sei Robin dai stiamo a fare un po' di puzzle solving si sto pensando a come ok penso di essere riuscito a capire si hai già capito film sei velocissimo io sono un genio devi farlo è un mezzo genio un genio un genio un genio next genio next genio ok dove sei allora? devo vedere cosa faceva quest'altro pulsante non fa nulla dobbiamo metterci la palla dentro vuole una palla ok ho capito ho capito tutto ho capito tutto bravo venga con me venga 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 signor vengo 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 ti seguo sono le spalle venghi venghi salti dietro il portale ok ho capito aspetta eh ho capito no aspetta ancora ancora per sempre c'è un interruttore qua lo premo lo premo ecco la palla la prendo eppala presa dove la portiamo dammela 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 ora vai tornando dove sei andato tornando dove sei venuto dunque per tornare la no no perchè? lol sei morto eh si sono morto si senza la possibilità di morte dunque la palla ti ho ucciso io è ovvio ma adesso tu c'è ancora la palla allora per... no ma fermo lì dove sei? fermo lì dove sei? sono qua sono qua ti passo la palla da... perfetto avvicinati al bordo perfetto no avvicinati al bordo te la passo dai prendila ok no porta la destinazione si 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 è scivolata eccolo allora subito no 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 l'hai distrutta no no l'hai quasi distrutta cazzo la tensione è salita per un scombo uuuu Yarno mi vede dei dolori ok dai Yarno non davanti siamo dei galli il prossimo lo risalvi tu si dai vediamo se ci riesco che bella scenetta esilarante scenetta no no ma io ho già preso paura allora aspetta non aspetta non non ti 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 Vieni a prendere visione Jarno Jarno vieni qua C'è pure questo che esiste Devi cominciare a guardarti intorno per sapere i problemi Devi fare così Devi abbassarti E puoi sparare da sotto Con control ti crouch Sì Ah poi se tochi questa lastra qua I portali che hai fatto scompaiono Vedi è scomparso Ok Ti scordo Ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? Ma cosa vuoi fare? C'è davvero un beota Jarno C'è davvero un beota Non sei te che sto pensando Allora qua ci vuole una palla no? La palla Per arrivare là in alto Nel senso Cioè io posso mettere un portale qua Qui c'è una freccia Sto cercando Ci sarà una parte bianca da salire là O no? No Per arrivare là in alto Che va dalla rovescia così Che va Che mi rovescia Allora Jarno vieni qua Entro di qua e va verso l'alto Così se faccio così No vabbè se non è Jarno ascoltami Sì Questa parte qua C'è un bianco qua e un bianco qua A cosa è sempre servito finora? Facevamo quel lavoro del salto Che ci saltavamo dentro Andavamo all'infinito E poi riuscivamo a attraversare Ecco Quindi E dici di farlo ancora Dici di farlo ancora Beh suppongo di sì Allora però Io faccio il contro come hai detto Hai detto che se tocco la lastra Scompare no? Esatto Ah però dici vado di là a farlo E passo di lì Sì quindi lo faccio qua No il rosso No cosa stai facendo? Devo Passare il culo a saltare Perché tu fai il portale Ah Allora Sì ti faccio il portale E salti tu Ok No Dove devi fare il portale? Di fare un portale qua sotto E uno qua sopra? Così è sempre salto O no? Così Sì Fai l'altro meglio però Fai l'altro meglio Quello sotto non ti piace? Così va bene dai Ok E poi cosa vuoi fare dopo? Bisognerebbe riuscire ad arrivare a quell'interruttore là Ma come? Questo qua sembra che vada in alto Cioè la freccia che va in alto vuol dire che va verso l'alto Cioè la freccia Quindi? Quindi se ti faccio arrivare lì No ci vorrebbe un altro portale qua Che così tu vai verso l'alto No Ok Faccio? Quindi Quando comincio a saltare Quando comincio a cadere all'infinito Ah quando comincio a saltare all'infinito io faccio il portale lì Rosso Il rosso Ok Poi salgo e prendo il pulsante E poi? E poi tu fai cadere la palla La palla Eh no Ci sono due pulsanti Ci sono due pulsanti Ah sono due pulsanti Vanno premuti insieme? Allora devo sedere su anch'io e fare la stessa cosa? No No Perché non puoi Ah Quindi fino ad adesso va bene Io salto su Poi lo premo E poi cosa faccio però? Torno giù e torno dove sono arrivato Sì E non c'era tanto tempo per rifare tutto da capo Quindi cosa devo dedicare? Bah mi darei la palla a me Mi butti la palla a me Sì Ma devo prendere i pulsanti insieme Come faccio? Fai un portale da una parte Che in maniera che tu riesci a passare Dall'altra parte No non ce la faccio Qua sono chiuso Vieni qua Io salgo e rimango chiuso Vai lì dentro Sì Vieni che rimango chiuso Devi agire tu Io sono quello che salta Tu devi agire Sto cercando Cos'è che mi vuoi far capire? Allora Io sto salta Tu mi fai Ok fino ad adesso va bene Io salgo Prima un pulsante Sì Ora immaginate nello scenario Io sono in aria Ho premuto un pulsante E devo arrivare all'altro Io sono esattamente qui Come raggiungo Qui In pochi secondi In caduta libera E qui c'è un portale Devo toglierlo Da qua No No Quello lì va bene Guardate che fino adesso va bene Ti ho detto Sì Immaginate lo scenario Adesso Adesso Quando Quando te Hai premuto l'interruttore Metto il pulsante lì In maniera che tu riesci ad arrivare Direttamente all'altro Bravo Ok Però allora deve essere un lavoro di Di velocità Già Allora Capito tutto? Sì Quindi Appena è stato giù Fai un portale rosso qui Appena lo fai Fai un portale giallo qui Lo metti di mettere qui E fare portale portale Perfetto Casomai da metà il via Che lo Ok Però posso anche fallire io Te lo dico Eh lo so Si rifà Ok Via Ok Ecco I Ho premuto E quante palle Un'è lì Le altre Già risolto Sto guardando se ci sono altri posti Dove metterle palle No ho già risolto Ho già risolto Andiamo E perché le sono uscite così tante? Le prendiamo? Le portiamo di là? Boh Tanto si distruggono tanto Ah si distruggono Si distruggono Perché ne avranno messi così tante? Boh Per farsi felici? Per divertimento Ho pure pensato Svido le distrugge Allora Mettiamone di più Dai ne giocare Ti interessava vedere Le salva fare questo signore Le salva Le salva fare questo Allora Vediamo un po' Qua c'è fa tipo trampolino Si Lo voglio fare subito Vedere cosa fa Boh 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 Quindi Diciamo che se mettiamo un portale lì No L'ho già risolto io eh Cosa vuoi fare? Stavo facendo una prova Allora Vieni Salve Ciao Beh dai Questo non era mica difficile Ok Adesso ho fatto la stessa cosa Saldi Saldi Prego prego salto Non mi ha sbattuto Oh abbiamo sbagliato Aspetta di là No Fermo 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 dove sei Sì sì Ok marrano Oh no Fermo Fermo dove sei Fermo dove sei Sto pensando a Sto riflettendo sulla vita I suoi enigmi Aspetta Se massimi sistemi del mondo Ok Vai lì e salta Certo No fermo No fermo 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 Ah vabbè Allora Conta Conta fino a tre E poi vai sul trampolino E poi vai sul trampolino Uno Due Tre Ah cavolo Hai visto? No 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 È che ho visto quello che c'è sta di là Questa c'è sta di là Questa c'è sta di là Eh delle cose Cosa c'è sta di là È la maniera per arrivare all'uscita forse Ok 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 Metti un portale qui Certo E un portale qui No uno diverso magari Rosso Cazzo Yarno Uno qui E uno qui Aspetta aspetta Perché una volta che l'hai fatto Dopo te lo fa Uno qui Ecco Ok Ora No no Fai ancora Hai capito Cioè io sbatto il muro in alto Ok E tu non riscontri Ma io ho capito Come fare Vai fuori Torna dove sei Rifai i porti Tali Sì 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 no Volevo vedere Volevo vedere anch'io Con i miei occhi Volevo vedere Sa Ecco Dimmi te quando vuoi che Che volo Vai vola Vado Uppala Perfetto Bravo Adesso Ok ma ora Il mio dilemma è Qua c'è una specie Come c'è Come ci arrivo io No ferma dove sei Come non lo sei Se la domini tutto Sto solo guardando Non è che Ok ok Come faccio Ora però Dunque E se io ti metto Un'uscita qua No C'è C'è un portale lì C'è una cosa bianca Posso mettere Qua lo posso mettere Veste Ok 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 Ora Ora fa il portale qui Diversi anche lì in alto Sì Sì Ok C'è dove ho fatto Siamo un cavallo No Non scopri Un cazzo No Ok Ho capito Ho capito Come fare Scendi Vai il portale qui Mi raccomando Non attraversare questa qua Non attraversare Non attraversare Ho detto Non attraversare C***o Eh Ma Ti avevo detto Di non attraversare la rete Sì ma il portale Lo posso fare attraverso la rete Porca merda Eh porca merda Se volete No Ma Eh vabbè L'avevo già Oltrepassato Quando l'hai detto Ascolta No Ma io posso fare il portale Anche da qua Vedi che non me lo fa fare Non me lo fa fare L'avevo risolto L'avevo risolto Ma tu mi hai detto Di fare il portale lì Come cavolo facevo Fare il portale lì Dove devo andare a forti Per fare il portale Cavolo 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 Insomma No Andate a vuole anche Connessione Cavolo Abbiamo fatto impazzire Anche il gioco Uffa